non ho partorito, sono sparita perché mi sono messa dopo lavoro quindi è poco che sono tornata a casa mi sono messa in pigiama e ho iniziato a sistemare un po' quello che sarà il fasciatoio del piccolino e io non so voi come vi siete organizzate vedete qui sotto c'è una vastetta non so voi come vi siete organizzate ma io sto cercando di dare ho ordinato dei visori per far visto che tutti voi avete questi visori e loro ho detto sicuramente saranno utili Carlotta dell'isola è pronta ad accogliere il piccolo Niccolò che dovrebbe arrivare tra pochissimi giorni ha già sistemato tutto vestitini azzurri, fasciatoio, salvettine imbevute e pannolini sono in perfetto ordine mentre la pancia cresce e le prime contrazioni si fanno sentire inizia il conto alla rovescia e per completare il quadro il suo compagno ha già montato la culla e ha allestito una dolce cameretta i fan di Carlotta seguono ogni aggiornamento con trepidazione e non vedono l'ora di ricevere la notizia ufficiale della nascita sembra che il lieto evento possa avvenire in qualsiasi momento il piccolo Niccolò è ormai pronto per fare il suo ingresso nel mondo e riempire di gioia la vita dei suoi genitori e dei tanti follower che li seguono con affetto